Pacchino deve scontare 10 mesi di detenzione per evasione e arrestato. Costata cara a un uomo la violazione domiciliare, i carabinieri della stazione di Pacchino hanno tratto in arresto, in ottemperanza e ordine di esecuzione per l'espirazione di pena detentiva emessa dal tribunale di Siracusa a un uomo, 41enne, già noto alle forze dell'ordine per i suoi presidenti di polizia. L'uomo deve scontare la pena detentiva di 10 mesi di reclusione per essere evaso nel 2018 dalla misura precautolare alla quale era sottoposto. Il 41enne, dopo le formalità, è stato tradotto presso la propria abitazione a regime di detenzione domiciliare a disposizione dell'autorità giudiziaria.